Ragazzi, in uno scorso video vi ho fatto vedere la mia tastiera e alcuni che non lo sanno vi state chiedendo come vai a cambiare la tastiera Usi un'app? No, non uso app Dovete andare solo sulla tastiera Infatti, tipo, quando dovete scrivere qualcosa, ecco E c'è questo tasso delle impostazioni Voi ci andate, ecco E c'è il tema E ci sono questi tema, ma voi vi chiedete come fai a mettere il tema Ecco qua, io c'ho già quello di Minecraft e fate più E qua ci sono tutto quello che vuoi Potete anche cambiare Come ben vedete Potete cambiare praticamente tutto Anche cambiare la regola Come è fatto, tipo così A 75 Se volete non mettete i bordi dei tasti che è meglio Cioè, se no, vi consiglio di far metterla al massimo E bordi dei tasti e disattivarlo E ora, tipo, andate Io vado su Whatsapp A caso Ecco, e guardate E qua, eccolo qua Tipo così E c'è la vostra tastiera modificata Spero che questo video vi sia interessante Quindi questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Su Black Ops Spoiler Ho già continuato un po' la storia senza registrare Scusatemi Ah Vic Sent Faccio 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 E' just...